In questa simulazione noi stiamo adesso esaminando che cosa succede all'aggiunzione Pn quando andiamo a sottoporla ad una differenza di potenziale. Vediamo qua il simbolo di massa e qua con questo cursore mettiamo la batteria, vediamo questo valore e il potenziale della batteria. In questo momento la situazione è quella di una forte presenza di una forte barriera di potenziale, il diodo è polarizzato inversamente, vediamo che cariche non ne stanno passando. Se noi continuiamo ad aumentare il valore negativo della tensione, cioè in realtà la stiamo diminuendo per un valore assoluto, la aumentiamo, vediamo che la barriera di potenziale si sta continuando ad alzare. Non notiamo alcun flusso di elettroni nel di lacune, non abbiamo alcuna corrente elettrica. Se invece poniamo l'altezza, la tensione in vicinanza della barriera di potenziale, vediamo che già comincia ad esserci una certa corrente e se la continuiamo ad incrementare, ecco, in questa situazione certamente possiamo dire che la giunzione è polarizzata direttamente, abbiamo un flusso di cariche in un verso e nell'altro, lacune in una direzione, elettroni nell'altra direzione. Quindi in questa posizione, quello che noi stiamo vedendo in questo momento è la polarizzazione diretta del diodo. Qua aumentiamo, vediamo che ancora la corrente aumenta, vediamo un'intensità maggiore della corrente, mentre in quest'altra situazione, quando la giunzione è polarizzata inversamente, non abbiamo alcuna circolazione di corrente a cavallo della giunzione.